Via libera dalla terza commissione consigliare alla relazione sui risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria per il 2013. Illustrando l'atto ai membri della commissione presieduta da Massimo Bucconi, l'assessore Fabrizio Bracco ha ricordato che nel 2013 sono state 19 le manifestazioni che hanno ricevuto un contributo per un totale di 120.000 euro di finanziamento disponibile. Purtroppo, al momento, per il 2014 abbiamo a disposizione un budget di soli 65.000 euro. A questi, ha sottolineato Bracco, vanno aggiunti i 30.000 euro per la Festa dei Ceri di Gubbio, che ha un'apposita legge. Nello specifico, per il 2013 la giostra della Quintana ha ricevuto un contributo di 19.000 euro, la Corsa dell'Anello di Narni 16.500 euro, come il Mercato delle Gaite di Bevagna. Il calendimaggio di Assisi 12.500 euro e i giochi delle porte di Gualdo Tadino 8.500 euro. 5.000 euro sono andati alla giostra dell'Arme di San Gemini e alla donazione Santa Spina di Montone. Un contributo di 4.500 euro è stato ricevuto rispettivamente dal Palio dei Terzieri di Città della Pieve, dal Palio dei Terzieri di Trevi e dal Palio dei Colombi di Amelia. La festa di settembre di fine Ottocento di Umbertide ha ricevuto 3.500 euro. 3.000 euro, invece, sono stati assegnati al Palio dei Quartieri di Nocera Umbra, ai Spellum di Spello, alla Fuga del Bove di Montefalco, alla Rassegna delle Pasquarelle di Cascia e al Rinascimento ad Acqua Sparta. Alla rievocazione dell'Antica Repubblica di Cospaglia, che si tiene a San Giustino, sono andati 2.500 euro, 1.500 alle Giornate Medievali di Narni e 1.000 alla Fiera di San Michele Arcangelo di Frattatodina.